E' coinvolto anche l'Abruzzo nel finanziamento delle attività riconducibili ad Al-Nusra, un movimento radicale islamico. Questa mattina, dopo mesi di indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo dell'Aquila, sono scattate le perquisizioni nei confronti di 20 persone di origini tunisine da anni stabilitis in Italia per l'accertamento delle responsabilità in ordine alla commissione di vari reati con finalità di terrorismo. Oltre che in Abruzzo il blitz è interessato anche le città di Torino-Milano e la provincia di Ascoli Piceno. Secondo la Direzione Distrettuale Aquilana, dietro una serie di illeciti di natura tributaria messi a segno con aziende edili e di commercializzazione di tappeti, si nascondeva anche una raccolta illecita di fondi destinati a sostenere il finanziamento delle attività riconducibili al movimento radicale islamico all'estero, oltre che al riciclaggio del denaro acquistando beni immobili e attività imprenditoriali. Nell'operazione di questa mattina sono stati impegnati i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Torino, Milano, Ascoli Piceno e Teramo con il supporto del ROS dei Carabinieri e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.